I nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 5.939 per un totale che raggiunge quota 2.346.962. Il bollettino regionale segnala anche 9 vittime con il totale che quindi arriva a 15.557. Gli attuali positivi risultano in aumento per un totale di 66.632 casi. Cala invece il dato ospedaliero con 901 ricoveri in area medica, meno 18, mentre sono pressoché costanti a 43 i pazienti in terapia intensiva.